Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia e oggi affronteremo il tema caldissimo proprio di questi giorni, sono arrivate le bollette dell'Enel e sono pesantissime soprattutto per i piccoli artigiani, le famiglie, i commercianti, quello che è diciamo lo zoccolo duro della nostra economia, piccola e media impresa che regge l'economia e che da quello che stiamo vedendo in questi giorni è un po' lasciata a se stessa, ci sono stati grandi interventi, grandissime iniziative, è limitata soltanto per alcune grandi aziende ma quella che è la base è stata un po' lasciata in balia di questa mazzata che sta veramente creando grandi problemi. Oggi iniziamo un nuovo percorso, cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come possiamo difenderci, ci sono effettivamente gli strumenti per difenderci, lo facciamo con personaggi qualificati che da tempo già si occupano di questa materia perché dobbiamo dirvi innanzitutto che non è un fulmine al ciel sereno, questa era una cosa già preventivata, bastava fare quattro conti e cercare di trovare delle soluzioni, cosa che non è stata fatta. E oggi in studio abbiamo Alfio Larosa che è il presidente regionale di Feder Consumatori, una grande organizzazione di consumatori che ha tanti punti in diverse città siciliane o in quasi tutte le province siciliane dove la gente si rivolge appunto per risolvere qualunque tipo di problema legato appunto ai rapporti con la pubblica amministrazione ma con le aziende e con quant'altro, quindi consumatori possono trovare lì sempre un punto di riferimento. Allora, cerchiamo di spiegare cosa sta succedendo perché, dobbiamo dirlo, voi già a febbraio avevate lanciato diciamo l'allarme, quindi stiamo parlando di mesi e mesi fa, quindi non è una cosa diciamo bastava fare quattro conti dicevo all'inizio. Allora, cosa sta succedendo sul fronte delle bollette? Beh, sta succedendo che una serie di problematiche hanno inciso sul costo dell'energia in modo enorme, rilevante, un problema che già è scoppiato l'anno scorso, l'anno scorso già le tariffe elettriche sono aumentate del 127%, quest'anno rischiamo ancora di raddoppiarle. Questo è dovuto a una serie di fattori naturalmente oggettivi come aumento di materie prime, la questione della guerra naturalmente dell'Ucraina, l'aumento del costo del gas sicuramente ha inciso, ha sfiorato anche 300 euro, quindi diciamo siamo circa otto volte in più dell'anno scorso. Però, diciamo, la questione è che naturalmente sono mancati degli interventi specifici strutturali che dovevano essere programmati già da anni, sia in Italia che in Sicilia potevano essere programmati. Ancora di più vuole in Sicilia, dove siamo in una regione dove abbiamo la possibilità di sfruttare moltissime delle energie rinnovabili che costano moltissimo e che invece noi non abbiamo utilizzato. Dico, ma c'è anche un effetto speculazione in questa vicenda? Dico, è soltanto un fatto legato alla guerra, con l'Ucraina, all'aumento, alla pandemia, tutte queste cose che ci siamo detti, però c'è, perché l'abbiamo visto anche con la benzina, la benzina in poco tempo è arrivata a 2,50 euro, 2,60 euro, poi adesso è calata. Una crescita, diciamo, un aumento non legato al prezzo del petrolio, perché il valire, per bene o male, dico, si è mantenuto sempre allo stesso punto. Da anni chiedevamo di intervenire su alcune distorsioni di come è costruito il prezzo dell'energia in Italia, naturalmente è il governo nazionale che lo stabilisce per tutto il paese. Uno di questi è l'aggancio importante della produzione di energia elettrica al costo del gas sul mercato nella borsa di Amsterdam, che chiaramente, essendo una borsa, essendo soggetta a forme di speculazione, ha ottenuto un effetto di ingigantire l'aumento del prezzo del gas. Si tratta di un mercato, quindi non ci sono neanche i produttori che vendono, ma si tratta di persone che solo finanziariamente comprano e vendono l'energia. Per fare più soldi. Per fare più soldi, naturalmente la speculazione. Si compra a minor prezzo, si fanno delle speculazioni in modo da aumentare il prezzo e questo poi incide sull'energia. Si riduce la produzione, si riduce la quantità e quindi aumenta il prezzo. Certo, ma è chiaro che questo dipende dal fatto di aver agganciato il prezzo dell'energia a questo mercato. Adesso l'autorità che regola l'energia vuole cambiare indirizzo, però questa è una delle distorsioni importanti che creano un meccanismo alto. Un altro meccanismo che è ben evidente, soprattutto in questo periodo, è che il prezzo di riferimento dell'energia è il costo dell'energia da produzione di gas, mentre invece ci sono delle altre produzioni come quello delle energie rinnovabili che sono a costi quasi zero. E quindi non si fa una media, né per quanto riguarda il gas, nel senso che il gas si può comprare naturalmente a diversi prezzi e le quotazioni sono naturalmente diverse sul mercato effettivo rispetto a quello del mercato di Amsterdam, della borsa di Amsterdam. Ma si crea un meccanismo che l'energia viene pagata in ogni caso al prezzo più alto, tutta anche quella prodotta a minor costi come quello da fonti rinnovabili. E quindi questo poi si trova con le bollette, proprio l'aumento di bollette che sono veramente... Va a finire nel portafoglio delle famiglie, in particolare delle piccole e medie imprese, dei piccoli artigiani, quello che è il nostro tessuto principale e importante. Tenete presente che per esempio l'ultimo dato di Istat, che naturalmente va rivisto, sulla povertà energetica, faceva riferimento all'anno scorso in cui 722.000 famiglie in Sicilia, le famiglie in Sicilia sono 2 milioni, non sono in grado di pagare le bollette energetiche o hanno difficoltà a pagare energia elettrica. E questo è un dato dell'anno scorso, che sicuramente andrà rivisto in questi anni. Per questo occorrono degli interventi straordinari. Come ci si può difendere da questi aumenti? Perché si sente parlare di rateizzazione. Rateizzandole, non ferma le altre bollette che arrivano. Soprattutto se le altre bollette sono sempre più care. E crea un ulteriore problema. La situazione è molto probabile, perché da ottobre, secondo la stessa Rera, c'è il rischio di raddoppiare le tariffe. Quindi stiamo entrando, nonostante le prime bollette che sono arrivate a luglio, soprattutto sui commercianti che hanno inciso parecchio, arriveranno le bollette di questo inverno, sicuramente le condizioni, la guerra, le cose, continueranno e quindi aumenterà il costo dell'energia probabilmente per tutto l'inverno, corriamo il rischio di incappare in una grave situazione, in una drammatica situazione economica ma anche sociale di persone che non sono in grado di far fronte al costo della bolletta, di dover rinunciare alla propria attività anche, da questo punto di vista, quindi una grave situazione. Molte sono le indicazioni che avevamo dato al governo rispetto a questa situazione. Naturalmente occorrono degli interventi straordinari, noi che avevamo una riforma degli oneri di sistema, ora il governo è stato costretto praticamente ad annullarle temporaneamente, ma è chiaro che è una questione che non sta in piedi, nel senso che il costo dell'energia è gravata da delle tassazioni che non hanno niente a vedere col costo dell'energia. E questa è una struttura che va senza altro eliminato. Ora il sistema sono state bloccate temporaneamente, ma sono sempre lì, è chiaro che occorre una riforma complessiva. Dicevo anche una riforma complessiva che tenga conto di un prezzo medio dell'energia e non ci sia un riferimento all'energia più cara. C'è anche la possibilità, naturalmente, di altri interventi, quello per esempio dell'IVA, dell'eliminazione dell'IVA, perché noi abbiamo anche qui un'altra struttura incredibile. Paghiamo anche l'IVA sugli oneri di sistema, cioè sulle tasse paghiamo anche l'IVA. E quindi sicuramente va abbassata l'IVA sull'energia, questo diciamo come riforma complessiva. Ma qua occorrono degli interventi proprio molto straordinari. Perché bisogna arrivare sempre agli interventi straordinari? Quando dicevamo prima che c'era un piano meraviglioso, soprattutto in Sicilia per quanto riguarda il sistema energetico regionale, che poi, dico, che poteva essere attuato e che invece poi non è nemmeno partito, se è partito è partito in parte. Praticamente quasi nulla. È stata lettera morta. Questo dipende naturalmente dalle mancanze di attivazione di politiche energetiche specifiche. Noi per esempio, diciamo, rimbianco ancora oggi il fatto che con il governo Lombardo si era preparato un piano energetico e un piano di azione concreto per sviluppare le fonti di energia in Sicilia. Era fatto dai principali centri di ricerca della regione siciliana con la partecipazione delle principali università in Sicilia e prevedeva per esempio anche un fondo di rotazione attivabile dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese in Sicilia per costruire impianti di energie rinnovabili o per fare interventi di risparmio energetico complessivamente. Questo avrebbe prodotto, se questo fosse partito, perché addirittura è stata approvata la norma nel Parlamento siciliano, ma non è mai stata attivata, perché qui non solo facciamo le norme, ma a volte anche le facciamo e le accantoniamo. Stiamo parlando del governo Lombardo. Stiamo parlando di alcuni anni fa. A quest'ora la situazione sarebbe stata diversa. A meno dieci, no? Sì, sì. A quest'ora la situazione sarebbe stata diversa, ma così vale anche in ambito nazionale. Aver sempre più... Perché si fanno i piani energetici, una delle principali cose che si dice è la diversificazione energetica, ma noi abbiamo costruito una produzione di energia elettrica, non incentivando le energie rinnovabili da una parte, ma dall'altro puntando soltanto sul gas. Puntando soltanto sul gas, naturalmente... E sul gas russo, fondamentalmente. E poi comprandolo soltanto da un paese, questione ancora più grave, ti crea una situazione in cui sei completamente dipendente da una nazione, da un paese, dall'arregazione di questa... Allora, quando vengono da voi per dire ho ricevuto la bolletta da 500 euro per le famiglie, 600 euro, 700 euro per le famiglie, e le imprese ne stanno pagando piccole e medie pede per bollette molto più grandi. Vediamo su Facebook 5.000, 6.000, cose veramente... Voi come li aiutate? Naturalmente noi verifichiamo se ci sono degli errori, se ci sono state sbagliate delle letture. È chiaro che teniamo conto anche della situazione del momento, perché se aumenta l'energia, molte persone ci hanno chiamato, ma a me è stato raddoppiato, soprattutto dopo l'inverno scorso, l'inverno del 2021, perché poi c'è stata anche una piccola stasi, soprattutto in primavera e estate, del costo dell'energia, ma lì chiaramente il prezzo andava lì, ma noi siamo in grado di verificare la bolletta, qual è stata l'ultima bolletta, qual è il riferimento, sappiamo il consumo medio che può avere una famiglia o una piccola impresa, e quindi diamo delle indicazioni. Però è chiaro che rispetto a una situazione di aumento di bolletta, coerente, magari con lo stesso consumo di energia che raddoppia, se dipende dall'aumento del costo dell'energia, c'è ben poco da fare, se non richiamare, chiedere degli interventi straordinari al governo nazionale, al governo regionale. Una delle altre cose che secondo me va messo in piedi, che abbiamo chiesto, è che mai il governo nazionale, che è intervenuto sull'IVA, è intervenuto sugli oneri di sistema, ma un'altra questione che si rende secondo me importantissima, impellente a breve, è quello del blocco dell'amorosità, perché se c'è questo aumento di bollette così consistente, aumenterà anche la possibilità, diciamo di impossibilità delle persone di tutelarsi e di pagare le bollette dell'energia. Così come probabilmente aumenteranno le persone che non saranno più in grado di pagare le bollette dell'energia e qui bisogna aumentare la fascia sociale che prevede fino a 1200 euro del certificato ISEE, bisogna aumentare anche i bonus, perché è chiaro che ci vogliono degli interventi straordinari. C'è l'ultimo dato che dice che in Europa si sono spessi negli ultimi anni, insomma da quando c'è tutta questa situazione di aumento, oltre 248 miliardi di aiuti alle imprese e alle famiglie in tutti i paesi europei. In Italia abbiamo il governo Draghi che è intervenuto notevolmente, 52 miliardi anche spese su queste questioni, ma qua il rischio è che ce ne vogliono ancora di più. Ma soprattutto qua bisogna in ogni caso prendere spunto da questa esperienza per cercare di fare delle riforme più complessive. E magari mettere in pratica certe cose che già sono pronte, come questi piani diciamo. E magari riprendere e mettere in campo alcune cose. C'è per esempio, ora c'è stata l'apertura sulla comunità energetica, che i comuni possono aggregarsi, i condomini possono aggregarsi, ma ancora sono molto ristretti, hanno ancora molti lacci e lacciuoli nella norma. Invece bisogna fare presto. Invece bisogna fare presto, è sempre più in fretta rispetto a queste cose. Era una cosa che andavano fatte tantissimo tempo fa, ma che invece siamo in ritardo e che dobbiamo accelerare. Ma qui si può ancora lavorarci e lavorarci parecchio su questa questione. Perché è evidente che, e questa è un'altra delle strutture importanti del sistema energetico, abbiamo liberalizzato, abbiamo liberalizzato in parte la produzione, o almeno abbiamo liberalizzato la grande produzione, ma non siamo stati in grado di liberizzare la piccola produzione, quella che viene da fonte energetica e rinnovata, che avrebbe consentito uno sviluppo notevole e diffuso nel territorio della produzione di energia elettrica. Questo è stato sicuramente uno degli errori. L'altro è che abbiamo puntato sulla liberalizzazione del mercato libero puntando sulla vendita soltanto. Cioè abbiamo liberalizzato o tentiamo di liberalizzare perché la liberalizzazione del mercato dell'energia avverrà nel gennaio del 2024, questo nonostante le telefonate che riceviamo tutti noi da anni, che sta per rientrare l'obbligo del mercato libero, ma lì ancora non c'è, se ne parla a gennaio 2024. Però è evidente che questa è un'altra struttura, l'abbiamo liberalizzato, non c'è neanche un albio dei venditori, chiunque può vendere, più che l'aspetto, anche se non ha mai trattato, né ha mai prodotto un kilowatt di energia elettrica, può vendere energie elettriche. Magari è un esperto, lo può fare Amazon, lo può fare chiunque. E questo, diciamo, puntare soltanto sulla liberalizzazione senza questa salvaguardia, sicuramente è un altro degli errori che mette a serio rischio anche i consumatori. Al momento sembra una finta liberalizzazione perché comunque poi sono sempre poche società che fanno anche poi tra di loro cartelle, quindi poi alla fine uno del consumatore diciamo riesce a spuntare pochi euro di differenza. Non so, ma spesso abbiamo creato degli incentivi per consentire le ristrutturazioni di queste imprese, che ora continuo a guadagnarci notevolmente. Io volevo dedicare alcuni minuti proprio per cercare di sensibilizzare quanti ci ascoltano per quanto riguarda la questione di questi continui passaggi, telefonate, ne parlavamo poco fa, telefonate o anche visite a casa per passare da un'azienda ad un'altra, Eni, Enel, ce ne sono tante altre, diciamo di quelle che... Spesso sono gli stessi promotori che una volta indossano la casacca Eni, un'altra volta quella Enel, un'altra volta quella Sorgenia e dico e così via e chiedono sempre di passare appunto da un'azienda all'altra. Possiamo dire innanzitutto che chi viene a casa non viene per regalare soldi e per fare... Ah, questo sicuramente. Per fare affari? No, viene soltanto per fare affari, naturalmente, su questo non c'è... Soprattutto poi in una situazione come questa, naturalmente, non c'è da aspettarsi grandi affari perché il prezzo dell'energia è basato da una parte su tasse che sono sempre uguali. Il costo dell'energia, diciamo, è fluttuante in questo momento per cui è difficile prevedere la possibilità di blocchi o non blocchi perché poi tra l'altro c'è il blocco ma non sempre c'è il blocco nel senso che può essere sorpassato, sulclassato da alcune esigenze particolari come può essere questa situazione che stiamo vivendo. Quindi bisogna stare molto attenti prima di tutto a non farsi capire informazioni. Naturalmente non c'è nessun motivo di ricevere persone perché già quella è la prima forma di garanzia. Se vogliono, possono chiamare oppure informarsi le persone. Io consiglio sempre, naturalmente, di informarsi. Ma tenendo presente che il mercato dell'energia è un mercato in sé molto complicato. C'è un sito istituzionale il Trovo Offerte, uno solo ce n'è di questo tipo, però ci sono già tanti siti simili che poi dentro nascondono un'attività commerciale sostanzialmente di vendita delle proprie proposte che naturalmente ti pone la massima cautela e attenzione perché là incidono tante questioni. Quando firmi un contratto consumi, come consumi, quando lo consumi, devi stare attentissimo, attentissimo, rivolgetti soprattutto per le persone anziane, che rivolgersi a qualcuno di fiducia, di esperienza, perché se no... Senza firmare niente. Se poi cominciano, guardi che sta arrivando il mercato libero, già si può chiudere il telefono perché stanno dicendo una bugia, è già una forzatura. Quindi bisogna difendersi da queste cose. Bisogna difendersi, bisogna difendersi attentamente. C'è anche come la telefonia, che fanno, diciamo, sono 5-6 aziende, fanno tariffe, diciamo, alcune sembrano vantaggiose, altre sembrano... Poi uno sottoscrive quel contratto dovrì che c'è l'aumento unilaterale, che è una cosa che, secondo me, uno firma un contratto e soltanto in Italia, io non so chi è che ha previsto e chi è consentito una cosa del genere. L'azienda, che è la parte più forte del contratto, perché hanno legali, hanno tutto a disposizione, manda una mail, manda un messaggio e dice c'è la variazione di contratto unilaterale, che per me è una cosa incostituzionale, perché non esiste che uno firma un contratto e poi chi è la parte forte me lo può cambiare senza che io possa fare nulla tranne andare. Ma perché? E' una cosa, su questo, dico, bisognerebbe, diciamo, le norme di tutela dei consumatori, diciamo, sono datate al 2005, chiaramente bisogna aumentarli notevolmente, anche perché il mondo del commercio, delle attività commerciali, in genere, di chi produce, di chi vende, diciamo, ha affinato le proprie, soprattutto nel servizio, ha affinato le proprie capacità di marketing in qualche modo, che spesso servono, diciamo, a prendere in giro, tra virgolette, diciamo, il cittadino. E tra l'altro, il paragone che fai con la telefonia in un mercato, diciamo che effettivamente un po' di mercato lo crea, un po' di contraddizione l'ha creato, un po' di meccanismi positivi li ha creati, un po'. Poi ci sono quelli là che dicevi tu. Io ho fatto un contratto con una di queste aziende siamo partiti da 20 euro e siamo arrivati a 49 euro nel giro di poco. Il meccanismo è qui. Ma io mi ricordo che ci sono state sanzioni dell'autorità contro le imprese che hanno unilateralmente aumentato il costo della telefonia eppure non l'hanno rispettato. Sono intercorsi nel pagare la multa perché molto spesso le stesse multe sono di poca consistenza rispetto al guadagno. Tanto che fanno il calcolo se è meglio pagare la multa oppure tentare di non ripagare almeno tutti perché poi magari c'è quello più puntiglioso che fa la richiesta che fa la cosa gli altri magari per pochi euro pochi euro per il cittadino ma con il numero di persone naturalmente per le imprese sono entrate notevoli. Io ringrazio davvero Alfio Larrosa presidente di Feder Consumatori Sicilia sicuramente l'avremo ospite in altre puntate per affrontare anche altri argomenti al momento il caro bolletto è quello diciamo che ci tiene più in ansia per tantissime persone allora io ringrazio davvero tutti quanti ci hanno seguito e vi auguro davvero una buona giornata grazie a tutti